benvenuti ben torti finalmente questo mio nuovo video oggi voglio condividere con voi portarvi qualche piccola funzionalità di whatsapp se naturalmente per quelli che naturalmente non le conoscono però prima di illustrarvi queste funzionalità di narrativa whatsapp vi invito tutti quanti a lasciare un bel impegno sotto questo video per supportare il mio lavoro e soprattutto il mio canale di iscrivervi al mio canale se ancora non l'aveste fatto che per me è importantissimo e per voi completamente gratuito e attivare la campagna delle notifiche per rimanere sempre aggiornati inoltre di condividere il video con il maggior numero di persone che potete quindi amici o parenti perché potrebbe anche far comodo a loro però ora vanno le ciance e iniziamo subito dopo la sigla e prima di iniziare a far vedere le clip dove vi faccio vedere appunto le funzionalità vi dico che queste funzionalità possono andare bene anche per android nel senso sono funzionalità che vanno bene per entrambi sia ios che android e naturalmente nel mio caso fatto per ios perché ho appunto soltanto ios quindi iphone e ipad in casa però potrete utilizzarle come dicevo prima anche per quanto riguarda android allora una funzione che vi farò vedere di whatsapp è la seguente dovrete andare aprire whatsapp andare nella sezione impostazioni e vedete qui in alto in alto destro di fianco al nome al vostro nome del contatto bene voi toccando questo questo pallino blu azzurro e aprirete diciamo il cuore il vostro cuore code del vostro il vostro numero di cellulare che è collegato a whatsapp bene quando voi dovrete comunicare la persona il vostro numero di cellulare per parlare con lei accettare con lei su whatsapp invece di comunicare il numero telefono basterà che che la persona acceda a whatsapp e scansione il vostro cuore code e automaticamente potrà vi aggiungere come contatto sulla vostra rubrica e di conseguenza sul vostro e sull'applicazione di whatsapp senza dover perdere del tempo comunicare il numero inoltre vedete che qui in alto c'è la freccettina per la condivisione voi potrete condividerlo con le applicazioni naturalmente diciamo compatibili con whatsapp in più anche salvare salvarlo come immagine o stamparlo salvarlo e anche in altre cartelle per trovarlo molto più facilmente io per esempio l'ho salvato sull'applicazione google keep che se volete potete andare a rivedere il video sul mio canale se volete per appunto per averci e per avere un mezzo molto più rapido per comunicare appunto la persona il mio contatto di whatsapp qualora mi servisse poi seconda funzione per quanto riguarda whatsapp e come inviare gli auto messaggi come voi saprete si può fare una foto per fare un video e direttamente dall'applicazione di whatsapp quindi senza doverlo fare con la fotocamera del vostro smartphone a parte e potrete anche inviare un massaggio vocale come fare ora bastare che voi premete naturalmente sul sul tasto qui in fondo dell'altoparlante e mentre stai parlando vedete che qua c'è una freccia che scorre verso l'altro in questo modo praticamente potrete parlare e mandare un audio messaggio senza dover tenere appremoto per forza lo schermo del telefono quindi vi faccio rivedere brevemente annullandolo vedete questo qua in fondo il microfono tendolo premuto vedete compare qua verso scorrendo verso l'altro vedete che compare con una freccettina è scritto e compare scorre verso l'altro per appunto continuare a registrare l'audio messaggio però senza aver tenuto premuto il il simbolo del microfono una volta che avete terminato l'auto messaggio potrete cliccando nulla annullare l'audio messaggio o la freccia per poter mandare direttamente l'audio messaggio alla persona come far a trovare i media ovvero le foto e i video che noi inviamo o che ci inviano facilmente ora di solito noi cosa facciamo abbiamo la foto qua per per esempio se dovesse andare a scorrere verso l'altro un'altra foto non non possiamo perdere del tempo a scorrere tutte le sette per capire dove siamo quindi cosa dovremmo fare semplicemente dovremmo toccare il contatto in automatico e all'interno di vedete questo qua il media link e documenti noi vedremo praticamente tutti i documenti che io e noi abbiamo inviato o che ci hanno inviato ovvero i media quindi vuol dire tutte le foto e video i documenti che noi possiamo avere inviato tramite le cose o i link quindi voi potrete vedere qualsiasi link media quindi link foto documenti che avrete inviato o che vi è stato inviato da questo contatto senza dover perdere del tempo a ricercare all'interno della chat poi come attivare la modalità silenzioso diciamo senza come non per sempre come vi avevo fatto vedere scorrendo verso verso sinistra la chat all'interno del esame delle anteprime potrete fare altro mettere mettere in modalità silenzioso però c'è anche la possibilità di decidere per quanto tempo silenziale non per non silenziale per sempre ovvero andando all'interno della chat toccando sempre contatto vedete qui che qui a metà troverete silenzioso o no cosa vuol dire che vi chiederà se volete tenerlo perso le 8 ore silenzioso quindi da quando l'attiverete per il prossimo 8 ore il qualsiasi messaggio che arriverà da questo contatto sarà silenziato una settimana quindi per una settimana da quando voi l'attiverete questo contatto vi mandare messaggi sarà silenziato o addirittura per sempre quindi questo qua è un'altra funzione molto molto comoda perché vi permette appunto di decidere voi oltre che a fare questo qua questo questo esame questo passaggio in più qua potrete vedere voi per quanto tempo silenziare questa determinata diciamo chat di questo contatto naturalmente potrete cambiare questo cosa in cui potrete cambiare questa modalità in qualsiasi momento poi un'altra funzione che vi faccio vedere è questa andando all'interno della chat di una delle chat che avete diciamo avete all'interno di whatsapp dove se dovete cercare una parola chiave ovvero una parola che è all'interno di un testo che vi siete scambiato con questa persona per ritrovarla molto più facilmente invece che scorra tutta la chat per ritrovarla quindi perdere un po di perdere del tempo andate dovete andare su contatto e ricercare fare ricerca chat in questo modo vi comparerà qui in alto una barra di ricerca e qui in basso una tastiera io andando inserire la parola chiave quindi la parola che sto cercando per ritrovare la parola o il testo che mi serviva io scriverò in questo caso la parola chiave e lui mi farà in automatico mi andrà a mostrare quanti risultati ha trovato per questa parola chiave che io sto ricercando e quindi io ritroverò molto più facilmente questa parola chiave che mi serviva e appunto il nella parte di testo che ho il messaggio che mi questa persona con questa persona mi sono scambiato senza perdere del tempo a ricercare all'interno della chat poi questo qua una funzione secondo me essenziale che diciamo che chi di voi la conosce già potrebbe già saperla usare ovvero andando nell'impostazione in chat vedete che potrete cambiare lo sfondo della chat decidere se salvare o meno sul rollino foto le foto che avete ricevuto o mandato tramite whatsapp e fare un backup della chat cosa vuol dire praticamente che tramite questa funzione qua e voi potrete fare il backup di tutte le vostre chat o ogni quanto una volta a settimana una volta al giorno una volta al mese o disattivarlo perché è molto importante questa funzione perché vi permetterà di non perdere nessun tipo di file e qualora voi doveste diciamo cambiare il telefono perché si rompe o dovete comunque cambiarlo perché dovete usare uno sostitutivo potrete comunque utilizzare whatsapp perché le chat che voi che voi avrete salvato e avrete fatto il backup delle chat che avete attualmente attive attualmente sul vostro account di whatsapp potrete riaverle sul nuovo telefono o sul telefono sostitutivo o anche addirittura sul computer poi un'altra funzione che secondo me può essere molto importante potrebbe essere questo vedete la chat le varie chat che abbiamo noi che abbiamo all'interno diciamo delle di quelle non archiviate scorrendo verso sinistra potrete archiviarla quindi potete mandarla diciamo nell'archivio quindi non farla vedere o cliccare su altro cosa succede quando io clicco su altro possiamo silenziare la chat quindi qualsiasi messaggio che vi arriverà da questa chat e voi averte attivato il modalità silenzioso non vi comparirà non vi comparerà nessun suono ma vi comparerà sullo schermo la notifica senza suonare possiamo esportare la chat e vuotare la chat quindi potete eliminare qualsiasi vuotare la chat senza però eliminarla e eliminare la chat o addirittura info contatto questo qua è una funzione molto importante perché se dovete diciamo personalizzare alcune chat o comunque volete fare in modo che alcune chat non senti i messaggi ma non mettere in silenzioso il vostro lo smartphone questo qua secondo me è veramente un'ottima soluzione per ovviare a questo problema altra funzione che potrebbero tornare a più utile cosa sono i messaggi importanti cosa sarebbero ovvero vedete io tenendo premuto il messaggio che mi è stato inviato posso copiarlo inoltre un altro contatto rispondere o toccare l'importante cosa vuol dire importante questo messaggio e vedete compare qui in basso compare una piccola stellina cosa significa che tutti questi messaggi che noi classifichiamo come messaggi importanti andano nelle impostazioni e andando i messaggi importanti automaticamente whatsapp li metterà tre messaggi importanti quindi quelli che noi potremmo andare a trovare molto più facilmente cosa vuol dire una persona si invia un messaggio tipo di un codice o comunque tipo del libano o di una cosa che noi dobbiamo ricordarci velocemente senza andare a ricercare all'interno delle chat i messaggi che ci ha mandato mettendolo tre messaggi importanti noi diciamo che perché praticamente li salveremo in uno spazio dedicato senza dover perdere più tempo a cercare all'interno della chat bene dopo che avete visto le clip dove vi ho fatto vedere le funzionalità che ho scelto nella relativa whatsapp vi anticipo come avete nel presentazione che vanno bene queste funzionalità potrete utilizzare se in ambito ios che in ambito android e per chi di voi e spero che il video sia stato interessante perché sono stati interessanti per quindi per chi di voi non ne conosceva è stata una scoperta nuova mentre invece per chi le conosceva già insomma tutto il ripasso comunque spero che sia stato comunque una cosa interessante e di che vi sono utili bene spero questo video vi sia piaciuto grazie per avermi seguito e alla prossima